La malattia, non è che è una malattia, sono abitudini apprese, non è una malattia, sono abitudini apprese, sono imprinting appresi, quindi non è che è una malattia, cioè noi dobbiamo uscire, questo per mindfulness, da una logica della malattia, la malattia non esiste, tu non sei ammalato, sei solo infelice, la malattia non esiste, non esiste la malattia, non esiste la malattia.